il milan batte 3 a 0 il monza a san siro e come di consueto oggi andiamo a leggere le pagelle che trovate sul nostro sito ac milan inside punto com dove trovate anche tutti gli articoli riguardanti il monto rosso nero dalla prima squadra al campionato primavera fino alla femminile allora queste sono le nostre pagelle pioli 6 vince 3 a 0 e prende se si utilizza il 3 4 3 finalmente gioca pobega da braccetto fuori ruolo lasciando in panchina un ottimo simici che entra segna e fa un partitone la gestione della rossa ancora una volta è inspiegabile gli obiettivi panchina per 90 minuti giro 37 anni gioca tre volte da titolare in una settimana e ciocquezza entra solo per l'infortunio di ocafor non ci siamo questa squadra un potenziale enorme e fa sentire tutti importanti sarebbe il primo passo per incominciare a far rendere tutti al meglio magnan 7 se continua a fare un miracolo a partita portiere incredibile la parata su colpagna ad anticipare il pensiero dell'esterno del monza e su e pura poesia tomori 6 e mezzo gioca in tutte e tre i ruoli della difesa a tre sinistra destra e centrale ma lo fa molto bene tranne una sbavatura su d'ambrosio chier si e mezzo torna dopo un lungo infortunio e fa una bella gara nonostante il lungo periodo di stop si fa trovare pronto pobega e senza vuoto esce per infortunio al minuto 24 florenzi 6 e mezzo protagonista del duello tra lui e di gregorio il portiere del monza gli niega il gol bella partita da quarto nel 343 love to chic 6 e mezzo fisticamente sta facendo fatica ma la sua presenza in mezzo al campo si sente sempre ma deve e può far meglio con le sue potenzialità renders 7 e mezzo quando gioca così è una delizia per gli occhi super gol condito da un destro sinistro di alta qualità super giocata con suola e scavetto per il terzo gol di ocafo e tanta corsa quando gioca così è meraviglioso teo ornandez 6 e mezzo con questo atteggiamento ed a quarto non lo fermi sfiora il gol e sgasa per molti tratti della partita pulisici 6 e mezzo sfortunato al 43esimo prende un incrocio che lascia san silo a bocca aperta partita di ottima qualità tecnica le ha 6 e mezzo serve l'assist del 2 a 0 per simic e viene molto più dentro al campo deve tornare nella sua miglior forma ma quando è mancato rafa al milan girù sei e mezzo buona partita di sponda fa un assist per ocafor sbaglia un gol nel finale su asset e su quese però va bene così simic se 7 più entra come se si trovasse in un campetto vicino casa tra amici tranquillo deciso spensierato e se neanche rischia la doppietta finalmente il suo esordio bartesaghi senza voto ocafor 7 entra a 67esimo ed esce all'ottantesimo un altro calciatore non avrebbe preso il voto non lui entra tiro a giro parato da di gregorio e gol tutto questo in 13 minuti peccato per il problema fisico ciucuese 6 e mezzo non doveva entrare scelta molto strana ma in pochi minuti serve due assist sprecati dai compagni sta crescendo di partita in partita queste sono le nostre pagelle come vi ripeto le trovate sul nostro sito acmianinside.com dove oltre alle pagelle trovate anche tutti gli articoli riguardanti il monto rossaniero e come sempre forza milan